Ci sposeremo e cambieremo casa. Non mi serve questo, è bella casa tua. È vero, ma è piccola. E con dei bambini ci servirà più spazio. Sì, quindi avremo dei bambini. Certo, con gli occhi grandi e belli come i tuoi. Però i nostri figli dovranno avere il tuo carattere. Ayaz, non voglio che siano testardi come me e dovranno prendere anche l'altezza da te. Io sono piccolina. Il carattere deve essere uguale al tuo, perché sei davvero dolcissima. Ah, grazie, amore. Secondo te, durante la gravidanza cambierò? Sarò irritabile, ti tratterò male? O ti farò mille assurde richieste come volere l'anguria in pieno inverno? Io mi conosco, il mio umore sarà pessimo. Ma mi piace tanto l'idea.